E' in pubblicazione presso l'albo pretorio del comune di Favara l'avviso di gara aperta per l'affidamento del servizio di animazione estiva per l'anno in corso riservato ai minori. Il servizio è stato programmato nell'ambito del distretto sociosanitario di Uno, capofila la città di Agrigento, e di cui fanno parte anche il comune di Favara ed altri nuove centri della provincia. I termini di partecipazione al bando scadranno il prossimo 5 luglio. Gli interessati, collegandosi al sito internet dei comuni facenti parte del distretto sociosanitario di Uno, esempio per la città di Favara, www.comune.favara.g.it, potranno scaricare tutti i documenti e le informazioni necessarie per le modalità di partecipazione alla gara. Al servizio di animazione estiva, che si terrà in una località balneare ubicata in uno dei comuni del distretto, possono partecipare tutti i bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni. La manifestazione è rivolta in favore di 440 minori residenti nella provincia di Agrigento e si svolgerà dal 12 luglio al 6 agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 e 30 alle ore 16. Due turni di svolgimento del servizio, la durata delle attività prevista per ognuno dei due turni è di due settimane. Il trasporto dei bambini fino allo stabilimento balneare e il servizio mensa saranno a carico di ciascun comune del distretto, quindi le amministrazioni dovranno provvedere anche a selezionare le aziende di competenza. L'elenco definitivo dei beneficiari del servizio di animazione estiva dovranno essere trasmessi dal comune al distretto sociosanitario di Uno entro il prossimo 7 luglio, quindi quanti sono interessati al servizio di animazione estiva dovranno presentare a istanza entro e non oltre il 5 luglio. La domanda dovrà essere corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, attestazione del modello ISEE 2009 rilasciato dagli uffici abilitati nel 2010, certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico curante. Quest'ultimo inoltre dovrà attestare che il minore è esente da malattie infettive e contagiose, nonché eventuali intolleranze o allergie alimentari. Infine bisogna inoltrare eventuali disabilità gravi relative a patologie psicomotorie che comportano difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane e che pertanto necessitano della presenza di un accompagnatore che sia ausilio alla competenza ed integrazione del minore. I bambini che potranno soffrire del servizio di animazione estiva, nello specifico a Favara, saranno 85. Per loro le attività inizieranno nel secondo turno, ovvero dal 26 luglio al 6 agosto. Il provvedimento è stato predisposto dal sindaco Domenico Russello, dall'assessore comunale alle politiche sociali Gerlandovella e dal dirigente ai servizi sociali Orsolina Sorce.